Oggi è martedì 23 giugno 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 23 giugno 2008. Abbiamo le prove. Con queste parole la NASA, lente spaziale americano, annuncia di aver scoperto dell'acqua sul suolo di Marte. William Boyton, ricercatore della University of Arizona, dice, in precedenza avevamo osservato la presenza di acqua ghiacciata, ma questa è la prima volta che l'acqua su Marte è stata toccata ed esaminata. A permettere la scoperta è la missione della sonda automatica Phoenix Mars Lander, partita dal complesso di lancio 17 di Cape Canaveral il 2 agosto 2007. Dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri, il 25 maggio 2008 la sonda tocca il suolo marziano a ridosso del polo nord e inizia a esplorare la zona con il suo braccio robotizzato. Per la prima volta ben tre sonde in orbita intorno al pianeta rosso, due della NASA e una dell'ESA, lente spaziale europeo, monitorano con precisione la discesa del lander, permettendo di individuare come zona di atterraggio un'area che si ritiene contenga la maggiore concentrazione di acqua ghiacciata al di fuori dei poli di Marte. Oltre alla ricerca dell'acqua, la missione ha come scopo quello di individuare possibili zone vivibili del pianeta. Ogni 50.000 anni le modificazioni dell'orbita marziana permettono di riscaldare abbastanza la zona dove atterra la sonda per fondere il ghiaccio. In quelle condizioni potrebbe svilupparsi la vita come noi la conosciamo. La missione è prevista della durata di 90 giorni. Nonostante il freddo, la sonda appare in grado di funzionare e perciò viene prolungata di 5 settimane. Poi Phoenix entra in modalità sicura per la scarsa energia disponibile. L'ultimo segnale arriva a Terra il 2 novembre. Il 10 novembre, tre mesi dopo il termine previsto, la missione viene dichiarata conclusa. Sul corpo del lander è agganciato un DVD preparato dall'associazione Planetary Society, in grado di conservare i dati in esso contenuti per centinaia, se non addirittura migliaia di anni. Contiene una collezione multimediale di opere di letteratura e di arte su Marte, chiamata Vision from Mars. Fra di esse la guerra dei mondi di Herbert George Wells, la famosa trasmissione radio sull'invasione dei marziani di Orson Welles, le cronache marziane di Ray Bradbury e diversi messaggi, fra i quali quelli scritti da Carl Sagan e Arthur C. Clarke, destinati ai futuri visitatori marziani. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. A rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.